Vuoi che metta un po' di musica? Stai cercando di creare l'atmosfera giusta? Sì, esatto. L'atmosfera per scegliere uno di questi gruppi che suonano ai matrimoni. Ah. Ho eliminato i mediocri e ho scelto cinque finalisti. Un gruppo? Che festa è senza un DJ? È una domanda retorica. Andiamo, non voglio uno squallido leader di un gruppo che imita Sinatra quando faremo il primo ballo sulle note di Witchcraft. Voglio All Blue Eyes in persona. Sì, ma purtroppo non è più disponibile. No, ma le sue registrazioni sì, tramite un DJ. Torniamo un attimo indietro. Perché dobbiamo ballare Witchcraft? È la nostra canzone. E da quando? Da quando l'abbiamo cantata al karaoke l'estate scorsa negli Hamptons. Credevo che la nostra canzone fosse Dancing in the Dark di Springsteen. E da quando? Da quando ho chiesto al boss di farti salire sul palco in stile Courtney Cox. Noi non abbiamo una canzone. Dobbiamo avere una canzone. Pare che stia suonando ora. Beckett. Un omicidio a Sutton, please.